Eeeh ciao a tutti amici di youtube, sono sempre io Fabio ed oggi prima di iniziare l'argomento del video dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho impostato come sfondo del desktop. Riuniti tutti quanti sono 16, 16 bellissimi capolavori che riguarderei l'hop infinito, finora ne abbiamo visti diversi, alcuni sono estremamente intuibili, altri possono risultare davvero particolari, perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta. Chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video e se eventualmente ha un canale youtube o un altro profilo social lo pubblicizzerò. In questo video come nei successivi analizzeremo del dettaglio iobit, software house molto affermata nell'ambiente windows, grazie a numerosi programmi per la pulizia, la deframmentazione e l'aggiornamento del pc. Oggi ne vediamo uno, chiamato driver booster, in italiano aggiornatore di driver. Essenzialmente ci consente di aggiornare e riparare tutti i drivers presenti nel pc, da quelli dedicati alla batteria a quelli dedicati alla scheda di rete. E come strumenti secondari abbiamo vari correttori di problemi e un ottimizzatore per il gaming, che essenzialmente arresta tutti i servizi inutili in uso. Sicuramente è una valida occasione utilizzarlo per quando si formatti il pc o semplicemente lo si acquista, insomma quando lo dovete configurare, così potete avere tutti i drivers all'ultima versione rilasciata e renderli compatibili pienamente col sistema operativo. Volete una motivazione in più sul perché adoperarlo? Beh, per aggiornare i drivers non è essenziale avere questo applicativo. Possiamo trovarli sul web, scaricarli ed installarli manualmente, oppure qualcosa riesce a trovare Windows Update. Dico qualcosa perché prenderà solo quelli più comuni. Driver booster consente di fare ciò in maniera del tutto automatica, senza particolari ricerche nei siti di supporto e quindi facilita e velocizza il processo di aggiornamento. Non sarà una guida lunga come ho fatto col precedente video riguardo il collega Advanced System Care perché alcune funzioni che sono anche qui le abbiamo già analizzate. La cosa che voglio farvi vedere maggiormente, come a buon diritto, è la scansione all'aggiornamento dei drivers. Per i meno esperti, un driver, dall'inglese autista, l'informatica indica l'insieme di procedure software, spesso scritta in assembly, che permette ad un sistema operativo di pelutare un dispositivo hardware, ad esempio una periferica. Questo è quello che recita Wikipedia. Vi lascio per approfondire l'argomento il link in descrizione. Prima di addentrarci nel programma, vi elenco brevemente le principali novità da poco introdotte con l'aggiornamento 7.0. Database dei drivers ampliato. Siamo a quota 3.500.000. Numero impressionante direi, un milione in più rispetto alla versione precedente. C'è un maggiore supporto ai driver dedicati all'audio e alla rete. Nuovo motore di scansione e nuova struttura della query del database. C'è un supporto all'ultima versione di Windows 10, ovvero l'aggiornamento di maggio 2019. Fra poco, giusto per informarvi, sarà rilasciato quello di novembre. Abbiamo il game boost che è stato ottimizzato del 15%, poi il supporto al Microsoft Visual C++ 2019, a Net Framework 4.8 e al Java Runtime Environment 10Z. E poi abbiamo la modalità silenziosa dove saranno disabilitate le notifiche del programma quando l'utente utilizza la modalità a schermo intero. Una volta scaricato l'installatore, andiamo ad eseguirlo. Vi saranno occupati circa 84 MB di spazio sul disco. Fatto ciò, verrà proposta la scansione e noi l'avviamo. Ci metterà diverso tempo, in base alla quantità di drivers presenti. Una volta terminata, saranno elencati tutti quei drivers che necessitano di aggiornamento, segnalati in bianco, e che mancano, segnalati in rosso. In questo caso abbiamo 19 elementi da aggiornare. Se vogliamo avere più informazioni riguardo un determinato driver, possiamo aprire la finestra dedicata, visualizzando la versione corrente installata e quella disponibile con le relative date di rilascio, poi il produttore ed infine l'elenco dei dispositivi che utilizzano il driver. In aggiunta abbiamo la voce per disinstallarlo oppure ignorarlo. Se apriamo nuovamente la tendina, ci sarà anche l'opzione per poter effettuare un backup, in maniera da conservare il dato originale, e poi l'esportazione in un file txt contenente tutte le informazioni riguardo ogni singolo driver. Prima di modificare questi elementi, se possedete una chiave di licenza valida, vi consiglio di metterla per sbloccare tutte le funzionalità. Fate conto che le funzioni pro consistono in una risoluzione dei problemi ai dispositivi, maggior supporto dei drivers, backup, ripristino e aggiornamento automatico di questi ultimi. Ora possiamo finalmente aggiornare. L'applicativo però prima ci notifica alcune avvertenze, in modo tale da metterci in guardia se accadono cose strane. Disabilitate software di sicurezza se si presenta un blocco dell'installazione. Ci può essere dell'instabilità nei drivers grafici, quindi è possibile che si verificano sfarfalli o arresti anomali dei programmi. Ci può essere una disconnessione della rete dati, non potendo di conseguenza navigare sul web. Naturalmente è consigliato chiudere i lavori che si stanno svolgendo, probabilmente diversi processi possono essere arrestati. Non ci resta che attendere il termine dell'operazione. Possiamo intuire il tempo previsto grazie alla segnalazione dei dati di trasferimento e se non vogliamo stare incollati al monitor possiamo decidere di far riavviare il PC automaticamente una volta concluso lo scaricamento e l'installazione. Riavviati il PC e quindi aggiornati i drivers che abbiamo selezionato, andiamo a vedere le altre funzioni secondarie. Game Boost ci consente di fermare tutti quei processi non essenziali ad una sessione di gioco, oppure quando dobbiamo in generale sforzare il PC. Quindi, in parole povere, ci migliorerà l'esperienza di utilizzo. E' possibile anche configurarlo, potendo selezionare i singoli processi da fare arrestare, sia di programmi sia di Windows. L'Ottimizza Sistema non lo stiamo a vedere. Intanto è semplicemente un collegamento ad Advanced System Care. Se lo avete installato si avvererà da qui, altrimenti lo scaricherà. C'è una sezione dedicata interamente agli strumenti presenti nel programma. Anche qui non stiamo tanto a focalizzarci, sono abbastanza intuitivi da capire. Partiamo dal primo, ovvero centro sicurezza. Ci consente di eseguire il backup e il ripristino dei drivers, anche del sistema operativo. Così se non sapete bene quale driver non funziona, potete direttamente ripristinare l'OS come era prima. Se voleste eventualmente eliminare dei backups, perché non vi servono e così risparmiate memoria su disco, attraverso la voce in bassa a sinistra potete risalire al percorso dove vengono memorizzati tali dati. I restanti strumenti riguardano la correzione di errori, come quella legati alla rete, oppure per quando riscontriamo la mancanza dell'audio. Poi abbiamo lo strumento per visualizzare nel dettaglio le informazioni del nostro PC, sia hardware che software. Poi abbiamo un collegamento per scaricare un programma Iobit, che vedremo in un successivo video, che essenzialmente ci consente di mantenere aggiornati tutti i programmi installati, ed infine due strumenti utili per disinstallare e rimuovere i dati riguardo a periferiche non collegate al PC. Ad esempio, se vi capita di collegare quell'unica volta la pennina USB del vostro amico e poi non la utilizzate più, i dati della periferica rimangono e perciò sarebbe meglio rimuoverli per non occupare spazio prezioso. Bene, con questi due strumenti potete eliminarli immediatamente. In questo caso ne potrei eliminare 65. 65 dispositivi diversi che sono stati collegati nel tempo a questo PC. Ovviamente state attenti, perché se ad esempio utilizzate spesso un mouse o una tastiera e nel preciso momento che esaminate i dispositivi attraverso questi due strumenti, questo mouse e questa tastiera sono scollegati, verranno rimossi senz'altro anche loro. Quindi subito dopo aver effettuato tale analisi non saranno più riconosciuti e se necessitano di installazione, quindi non sono plug and play, dovete installarli di nuovo. Prima di salutarci voglio mostrarvi velocemente le impostazioni. Passateci sempre, mi raccomando, in maniera da far funzionare il programma in base alle vostre esigenze. Ad esempio si può cambiare il tema, passando da scuro a chiaro o addirittura a uno personalizzato, oppure scegliere il percorso predefinito per il salvataggio dei download e dei backup. Insomma, guardate ogni voce attentamente per poter far funzionare al meglio il programma e soprattutto i vostri drivers. Bene, per questo argomento è tutto. Un consiglio che posso darvi, come detto anche all'inizio del video, è di installare driver booster quando configurate Windows, in maniera da averlo subito fresco, oppure quando, e qui mi è successo di consigliarlo molte volte, si verificano problemi. Magari quando l'audio lo sentite più basso o gracchia, quando notate una frequenza anomala dello schermo. Insomma, quando vi capitano dei problemi qualsiasi legati all'hardware, vi consiglio vivamente di utilizzare questo programma. Potrebbe in poco tempo risolverveli. In basso alla descrizione trovate il link per scaricarlo. Anche poi i link che rimandano ad altri video o articoli, così giusto se volete approfondire. Poi, come detto prima, la spiegazione di Wikipedia, che consiglio di leggere, e poi i miei canali social per poter rimanere sempre aggiornati sulle mie attività, non solo di YouTube. Noi ci vediamo ad un prossimo video.